Buonasera a tutti, siamo qui dalla Festa della Rete all'Università Yuma, arrivata alla sua undicesima edizione, Enrico Mentana, uno degli ospiti più luffi di questa edizione. Allora, direttore, le chiedo subito come Internet ha cambiato dal punto di vista anche sociale, sociologico, quella che è la dimensione partecipativa delle persone, sia a quella che è la sfera politica, ma anche a quella che è la sfera dell'informazione in generale. Parliamoci molto chiaramente, l'invalersi del web ha battuto con l'illusione di aumentare il livello di partecipazione e questo è quello che drammaticamente è successo. Si può pensare, si può credere che allora tutti adesso comunichino con tutti, ma in realtà quasi nessuno conosce più nessuno. Il vero problema è che non c'è dialogo. Quello che dimostra la vita dei social è che si socializza sulle iperboli, sui partiti presi, sugli schieramenti, sui accodamenti e il pensiero che distingue, il pensiero che si distingue. Non c'è più la pecora bianca in mezzo alle tante pecore nere. Non ho sbagliato, non ho visto un po' di negativo. Il dramma è questo, che è una mangria di pecoroni che agisce secondo i like o il loro contrario. Tutto questo non contribuisce a una crescita di pensiero, basta vedere tutto quello che si vede e il fatto che a un certo punto ci sia stata una forte prevalenza delle figure peggiori, delle figure che potevano mettere un diserbante laddove si voleva far crescere qualche germoglio. La questione è che tu puoi vincere la battaglia contro ogni ostacolo che l'è, se la vinci con più cultura, intelligenza, ironia ma anche buoni sentimenti veri nei tuoi polmoni, perché solo così combatti quell'intossicante inquinamento che c'è su noi.